Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per i video problemi. In questo video problema muove il bianco e vince. Bene, vi lascio alla risoluzione del problema e vi do appuntamento ai prossimi video problemi con Mario Santagati e Chesslogger. Ciao, alla prossima! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie!